0-0 al Vito Curlo, il Molfetta sfatta così il tabù trasferta, rimanda l'appuntamento con il primo successo lontano dal Paolo Poli, è vero, ma conquista comunque il primo punto stagionale con la valigia da viaggio. Resta il rimpianto per la chance dal dischetto non sfruttata da Strambelli nel primo tempo. Secondo punto della gestione, Costantini invece per il Fasano che esordisce con un risultato positivo nel nuovo anno. Restano in ultima posizione i biancazzurri, ma danno incoraggianti segnali di rinascita. Non è una partita indimenticabile, colpa anche e soprattutto di un campo resto appesantito dalla pioggia. Organico rivoluzionato quello di casa, ma degli ultimi arrivati solo De Miranda trova posto nell'undici di partenza, Paceco dove scontare la squalifica, mentre per Lopez si attende ancora il transfer. Davanti ci sono Nadarevic e Stracqualursi per gli ospiti, invece Mingiano fa coppia in attacco con Strambelli. Quest'ultimo sugli sviluppi di un corner ci prova dopo sette minuti, tentativo Murato. Replica il Fasano, punizione di Nadarevic, deviazione vincente ed inutile di De Miranda, gol annullato per fuorigioco. Per i Colossi, i biancazzurri, anche prima del quarto d'ora, Stracqualursi con il pancino colpisce il palo esterno. Poi l'episodio del rigore, Brescia atterra Mingiano in aria, dal dischetto si presenta Strambelli, ma Sumar respinge con il piede e conferma lo 0-0. Inizio vivace, poi calano le emozioni, Trove va giù in aria, ma l'arbitro lascia correre e prima del riposo di Fino calcia centralmente, solo sollettico per rollo. 0-0 all'intervallo. Prima metà di ripresa a varia di occasioni. Ghiotta chance invece per il Molfetta con Strambelli che pennella per la volée di Mingiano, ma Urquiza salva nelle vicinanze della linea di porta. Poi Strambelli ad impegnare Suma su una punizione battuta a sorpresa. Fasano di nuovo in gol prima della mezz'ora, lo stesso Jurquiza su punizione di Nadarevic fa centro di testa, ma l'assistente segnala la posizione irregolare. Ultimo quarto d'ora, decisivo rollo quando si distende per arrivare sulla stoccata dalla distanza di Bernardini e il sussulto conclusivo della partita che termina così senza reti. Molfetta che con il primo punto esterno sale a quota 12 in graduatoria. Domenica al Paolo Poli sarà derby con il Gravina, il Fasano invece sarà di scena al D'Angelo contro il team Altamura.